rieccoci si parla di serie C adesso piccola precisazione la risata di prima era una risata per certi versi amara non voglio offendere nessuno nel modo più assoluto perché è una situazione che a me non fa piacere e chi segue i miei video forse capisce cosa ha voluto dire cosa ha inteso dire con quella risata lì perché a meno che non sia in mala fide una persona mediamente intelligente capisce che quanto è stato detto oggi in quella conferenza stampa non è farina del sacco di chi l'ha pronunciata ok? mettiamola così mettiamola così veniamo a noi qualcuno mi ha citato Zeman ah il solito commentatore di Bologna che saluto mi ha citato Zeman no Zeman si è fermato ha avuto un altro malore e ha lasciato la panchina del Pescara come è giusto che sia vista l'età io sul Zeman io non voglio male a Zeman assolutamente anzi per me è stato un ottimo allenatore un ottimo maestro di calcio sì le frasi con la Juventus ma io penso che almeno all'inizio Zeman sia stato pesantemente usato come si evince dalla puntata di report io credo che Zeman sia stato pesantemente usato poi anche lui ci ha messo del suo per carità ma lasciamo stare Zeman è stato un maestro di calcio vero non come non come sti quattro montati di ora e guardate io le squadre di Zeman le ho viste dal vivo più di una volta ah sì ieri vi ho citato le due partite col Barletta che il Barletta ha vinto in Serie B praticamente nel modo identico due gol identici 1-0 1-0 con due gol identici Ferdinando Signorelli nell'89 e Sottili nel 90 ma soprattutto io ho avuto la fortuna quando ero ragazzo non avevo neanche 18 anni a Bari una volta faceva si svolgeva una sorta di mini fiera del Levante che era Expo Levante e noi si andava più a far casino che altro si andava capito quel giorno si decise c'era il derby Barifoggia di andare a guardare Barifoggia il Bari era allenato da Boni che aveva in campo Plat Boba Gniarni Terra Cenere il portiere Biato mentre il Foggia era il primo Foggia di Zemanina quello con Signori Baiano ragazzi io ho visto un calcio ho visto una roba ragazzi ma quando io perché quando qualcuno mi dice eh ma il calcio di oggi è diverso è più veloce tutte stronzate tutte stronzate perché ragazzi io rimasi scioccato a guardare quel Foggia lì scioccato in una decina di minuti era già avanti 2 a 0 il Foggia ed era un Foggia che veniva da una serie di sconfitte mentre il Bari bene o male si stava risollevando che era in zona retrocessione ragazzi io vi posso tranquillamente dire che per 20 minuti abbondanti i primi 20 minuti abbondanti il Bari non ci capì niente ma triangolazioni a mille all'ora ma correvano come dei bastardi non ricordo se Calcaterra o Terraceli sa Calcaterra praticamente abbattuto fu costretto uscire dal campo per una pallonata in faccia alla punizione di signori le reti furono segnate da Baiano il primo in una delle classiche triangolazioni in profondità zemaniane e l'altro da Igor Shalimov che poi andò all'Inter avrebbe fatto bene anche all'Inter nel Bari mi sa che segnò Plat su rigore il terzo gol in contropiede di Kolivanov 3 a 1 però ragazzi quello che a me è rimasto impresso fu la prima mezz'ora di gara ragazzi veramente il Bari non ci capì niente e solo chi ha visto dal vivo quel Foggia potrà testimoniarvelo ragazzi è una roba incredibile veramente questi con una difesa con una fase difensiva leggermente migliore questi potevano puntare al secondo terzo posto in classifica questi qui perché era veramente un piacere per gli occhi guardare quel Foggia lì poi ogni tanto incappava in quelle crisi il classico inverno zemaniano dove le sue squadre forse per difetti di preparazione andavano un po' in crisi tra gennaio febbraio no dicembre gennaio dai andavano un po' come Spalletti un po' come Spalletti che dicembre gennaio febbraio andavano un po' in crisi e così si parlava di inverno zemaniano si parlava poi risbocciava la primavera e veramente potevano battere chiunque sinceramente ora pensi alla salute il mister zeman faccio una vecchiaia serena perché a differenza di tanti ciarlatani del calcio lui le vittorie le ha ottenute e non ha avuto mai la fortuna di poter lottare realmente nei grandi traguardi lui la squadra più forte che ha allenato è stata la Lazio signori Boxic Rabao di Casiraghi eccetera eccetera e ricordo che ebbe solo la sfortuna di trovarsi davanti la Juve di Lippi e il Bila di Capello perché fece un secondo è un terzo posto se non sbaglio o due terzi posti fece quegli anni lì in Coppa UEFA una volta uscì ai quarti col Borussia Dortmund con grande Borussia degli anni 90 e l'anno dopo con Lione vabbè poi li smantellarono in parte la squadra e poi sappiamo com'è finita a Roma ha fatto vedere due anni un bel calcio con una Roma abbastanza mediocre devo dire salvo qualche individualità come Totti Cafu Candelà Paolo Sergio però fece vedere belle cose e poi le sue ultime due partite a Pescara a parte che ricordo il meraviglioso Pescara di quell'anno in B meraviglioso era quel Pescara il coltridente in signe immobile Cascione era Cascione si chiamava mi sa di sì con Verratti a centrocampo Perini in porta se non ricordo male ma raga stagione 11-12 l'anno purtroppo della scomparsa di Morosini proprio durante Pescara Livorno poi quell'anno di Morim il suo collaboratore Franco Mancini del sportivo del Foggia perché Zeman a differenza di qualche profeta del cazzo almeno potrà dire di averla vinta la Serie C la Serie B potrà dire di averla vinta io ricordo ricordo anche il suo Licata il suo Licata squadra composta da tutti i siciliani tutti i siciliani anche perché lui inizia la carriera di allenatore come al mister della primavera del Palermo e infatti lui si porta molti di quei giocatori tra cui il Cugilo di Toto Schillaci uno che si chiamava come me Campanella Zangara il portiere la Rosa l'attaccante poi chi c'era il Gnoffo il Terzino Decento Irrera insomma tutti i cognomi siciliani ma specialmente il primo anno che salì in C1 quel Licata ragazzi dava 3-4 gol a tutti in casa ricordo che per larga parte del G1 era andata era primo in classifica era primo in classifica poi fuori casa naturalmente non rendeva come rendeva Aldino Liotta così si chiama lo stadio di Licata quante ve ne devo insegnare si chiama Ara non so se chiama ancora così quante ve ne devo insegnare il Dino Liotta delicata che poi ebbe problemi strutturali durante un Licata Torino in Serie B e cominciamo a parlare di Zema che comunque le due ultime partite le aveva perse anche pesantemente a Gubbio e in casa con la Spal un Pescara altalenante altalenante troppo altalenante quando in Serie C purtroppo ci vuole la continuità la Serie C è diversa dalla Serie B la Serie C ci vuole continuità non che non ci voglia che in Serie B per esempio una squadra altalenante come il Venezia che vince perde vince perde ora si trova a lottare per la promozione per la promozione diretta in Serie C anche perché ne sale solo una direttamente è molto più difficile bisogna avere una certa regolarità bravi bravi questi ragazzi bravi 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 veramente e bravo Brambilla ultimamente sto guardando più di qualche partita della Next Gen devo dire l'ultima non l'ho vista ma più di qualche partita della Next Gen la sto guardando sono sincero detto questo iniziato dal Pescara giustamente ho citato la Spal che è in riprisa che sta facendo di tutto per tirarsi fuori dalla zona play out trascinata da Antenucci che sta segnando ripetutamente sta trascinando questa squadra mi piace che la Spal è una delle poche squadre poche nobili decadute perché la Serie C è in gran parte composta da nobili decadute con lo stadio sempre pieno veramente incommiabili i tifosi Spaldini devo dire per quanto riguarda la testa di questo girone ragazzi è pochissimo da dire il Cesena è praticamente in Serie B vero Burdel come ha commentato un amico tifoso del Cesena Cesena è praticamente in Serie B Cesena è praticamente il catanzalo dell'anno scorso ha già 65 punti ragazzi siamo solo alla alla sesta di campionato alla quinta no alla sesta mi sa che siamo ancora ragazzi mancava ancora 13 partite queste erano già 65 punti cioè sulla Torres eh la Torres ha già fatto troppo la Torres per me dove inizia guardarsi da guardarsi le spalle da Carrarese a Perugia perché adesso la fine del sogno un po' come la Juventus in Serie A ha dei contraccolpi psicologici è inevitabile finché è stata lì a due punti tre punti due punti a pari punti con il Cesena ma giochiamoci vediamo poi tra l'altro loro avevano anche pareggiato in casa del Cesena quindi è normale che un po' sei portato a crederci inconscialmente sei portato a crederci però adesso è tempo di piazzarsi al meglio nella zona playoff e giocarsela e giocarsela con chiunque perché questo Cesena è ingiocapite diciamolo nettamente la squadra più forte della Serie C nettamente il Catanzaro dell'anno scorso uguale uguale cambiamo zona cambiamo zona nel girone A il Mantova bene o male non è come il Cesena ma poco ci manca il Mantova mentre il Cesena ha il materiale umano che è di primissimo ordine mentre il Catanzaro l'anno scorso se c'è una differenza tra il Catanzaro e il Cesena che il Catanzaro coniugava singoli e bel gioco l'anno scorso il Cesena gioca bene ma non come il Catanzaro di Vivarini l'anno scorso invece il Mantova il Mantova che pratica un bel gioco con Po Sanzini ha incappato una di quelle annate le squadre giochiste quando incarano per un attimo ho parlato dialetto barrettano quando azzeccano l'annata giusta sono ingiocabili sono ingiocabili aveva perso in casa dell'Albino l'EF recentemente ma poi ha battuto la Triestina poi ha vinto ad Alessandria anche se solo 1-0 mi dispiace per Alessandria è ultima in classifica e questo punto la vedo molto difficile per la salvezza anche se c'è anche Fiorenzuola in caduta libera mentre per la zona bassa della classifica si sta riprendendo la grande è il Novara che è la seconda vittoria di fila e il Novara ora se la gioca anche per la salvezza diretta è stata una vita penultima in classifica e il Novara invece adesso se la gioca sulla zona alta tornando alla zona alta detto del Mantova il Padova vince è consolido al secondo posto che vale l'accesso alla diretta fase nazionale mi sa già i quarti di finale mi sa che vale il secondo posto la Triestina in caduta libera cacciato Tesser non ho ancora capito la questione stadio perché giocano a Fontana Fredda e non al Nereo Rocco non l'ho ancora capito perché forse per questioni per pagare meno il fitto dello stadio non lo so perché di spettatori ne vanno pochi non lo so o per qualche lavori allo stadio non lo so quanto sta che anche la Triestina adesso deve guardarsi dietro che avevo citato come più credibile avversaria del Mantova invece è crollata crollata di brutto e adesso c'è il Vicenza che invece è in ripresa ora è tutto secondo me adesso la lotta è tutta è tutta per i piazzamenti perché penso che per la promozione diretta i giochi siano bene o male fatti tutti e tre i gironi o quasi fatti quella con meno distacco la Juve Stabia che però vedi a Juve Stabia vedi ecco perché difficilmente verrà scaldato io credevo nell'Avellino ma adesso me ne sta perdendo una dietro l'altra l'Avellino pare ci sia anche contestazione dopo le due ultime sconfitte in casa con Sorrento e Messina pare ci sia anche anzi c'è contestazione l'Avellino pazienza sulla graticola che era già subentrato a Rastelli ci sono squadroni che sottoperformano e squadre come il Taranto che invece overperformano e a proposito di Taranto cioè io adesso è con cuore in mano che parlo non d'avversario politico veramente ma sindaco Melucci ma davvero la squadra deve andare a giocare a Teramo ma l'hai visto il video di quel poveraccio di quel tifoso anziano 85 anni con le lacrime agli occhi non ho diritto a vedere il mio Taranto ma stiamo scherzando che cosa per cosa poi per sti cazzo di giochi nel Mediterraneo ma poi a Teramo ma cazzo Brindisi Lecce Francavilla Fontana Martina Franca cazzo ma anche Matera non ce ne sono più campi oh Melucci ma che cazzo ma davvero tutti sti problemi sti giochi nel Mediterraneo tutti già porca puttana a Taranto avete tutta la mia solidarietà io a Taranto ci ho fatto il militare ci sono in un certo senso affezionato nonostante la forte rivalità tra le due tifoserie di Taranto e Barletta ci sono abbastanza affezionato quella città che spesso vengo a farmi il giro a Taranto il centro è bellissimo rispetto a quando ero io a militare ora è tutto pedonalizzato è bellissimo il centro di Taranto devo dire ma che cazzo sindaco Melucci ma che cazzo mi fai sentire ma davvero la squadra deve andare a giocare a Teramo ora dico io Taranto città di 200.000 abitanti o giù di lì la città che ha da poco commemorato la scomparsa di Erasboiacovone la città che ha dato i natali calcistici al campione del mondo Franco Selvaggi a Pietro Maiellaro cioè ma davvero Walter Riganò cioè ma davvero questa questione stadio così io ci sono passato per la questione stadio ma noi porca puttana e noi facevamo la spolla in eccellenza giocavamo in eccellenza giocavamo ma porca miseria è 30 anni che non vedete 31 anni che non vedete la serie B c'ero io a militare quando siete retrocessi c'ero io a militare quando siete retrocessi cioè ma ma non vi vergognate un po' come classe politica ad assistere a quel poverino in lacrime un vecchio di 85 anni in lacrime per il suo Taranto ma davvero dovete andare a Teramo a giocare ma state scherzando cosa io spero sia una bufala perché veramente sarebbe da forconi da roba del genere ma noi andavamo a 20 km a Canosa ma porca puttana da Taranto a Teramo sono spero abbiano capito male perché veramente è pessima sta roba qua sono 400 km e passa fino a Teramo ma state scherzando oh c'è questo si stuede cari vedi che me lo ricordo ancora il dialetto Tarantino non lo so ragazzi io resto scioccato quando vedo certe robe guardatelo il video ragazzi è diventato virale è straziante è una roba straziante questa persona anziana col cappello del Taranto che magari ha vissuto l'epoca d'oro del Taranto di Donato Carelli del presidente Vito Fasano di Totò Lopez di Nicolato Ottavio di Maiellaro di Frappampina di Bertazzon del portiere Paese l'attaccante Fracas Melucci datti una svegliata che non è una bella non è una bella scena quella che è in giro per il web si fottano i giochi nel Mediterraneo se questo deve essere il prezzo veramente la mia più grande solidarietà tra i tifosi tarantini nonostante la rivalità l'ostilità tra le due tifoserie veramente lo dico iscrivetevi al canale ragazzi